Nino Minicucci, siamo in diretta, insomma queste elezioni non si dovevano fare però allora non ci fossero le condizioni di sicurezza. Le condizioni entri anche se faccio tre sezioni, tre sezioni elettorali, un centinaio o più persone solo in un seggio che sono qui. All'interno entrono uno alla volta, le distanze abbiamo visto, abbiamo anche la città metropolitana. E quindi avremo di nuovo le votazioni, perché per andare avanti il sindaco anche da solo, perché il sindaco ha dato la sua posizione. Grazie. Ah sì, tre papabidi, uno, due, tre, quattro. Non mi vedete che non è fido molto in miracolo avere un passaggio. Grazie a tutti. La verità è che sono due elezioni diverse. Ci sono elezioni universali che portano, e quindi sono elezioni come un gruppo di partecipanti molto più basso, che è un po' piena di direttori, di amministratori, elementi di sostanza e di mantenimento. Non è un'idea di avere delle prescrizioni, sia essere un nome. Il diritto alla partecipazione, il diritto alla salute, sia il sì. Possono fare un po' piccolare per poterlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.